L'Ordine Architetti ha accettato con piacere l'invito a partecipare a questo tavolo di lavoro. Da tempo è un'organizzazione che si occupa di sostenibilità a scala urbana a vari livelli, quindi efficienza energetica, educazione ai consumi, cittadinanza attiva, consumo di suolo, progettazione sia urbana che architettonica, attenta all'ambiente. E quindi ci sembrava che il nostro ruolo in questa dimensione fosse utile anche per portare sia la disponibilità che l'interesse da parte della nostra categoria a partecipare a processi educational, in questo caso ad avere un rapporto attivo con la scuola per mettere a disposizione competenze utili anche a far entrare nel mondo educativo e a far conoscere ai ragazzi qual è il ruolo che hanno i progettisti a vario livello sull'impatto ambientale del territorio, quindi noi siamo una categoria che progetta spazi urbani, città, progetta edifici, organizza i sistemi urbani, ha a che fare con le aziende, ha mille ruoli e quindi di conseguenza ci sembra utile che anche la comunità dei ragazzi possa conoscere qual è il ruolo rispetto al miglioramento dell'ambiente, l'attenzione alla sostenibilità pone la categoria degli architetti.